Voi porterete il corpo di Cristo a quei malati che non possono andare più in chiesa, ma porterete anche il vostro cuore e la vostra acqua. Non siamo informati bene sul sesso, questa è la colpa nostra di tutti. Ultimamente mi vedo anche più bello. Ma tu sei sempre stato bello, sei bello da quando ti conosco.